Torna a nuova vita la Pinacoteca Vincenzo Bindi di Giulianova. Domenica 18 luglio ci sarà la riapertura al pubblico. Assessore Giorgini, una grande notizia non solo per Giulianova. Sicuramente è un grande onore per noi riportare alla luce, allo splendore questo luogo, questa Pinacoteca che è stata chiusa per 15 anni. Io dico sempre i miei figli non la conoscono. È un gioiello così bello, così ricco di opere importantissime. Era giusto che tornasse allo splendore e alla fruizione dei turisti o di tutti quelli che hanno piacere di goderne. Io ho cominciato a prendere coscienza dello stato della Pinacoteca all'inizio del mio mandato, luglio del 2019. Avrei voluto proprio le riprese di com'era e adesso di com'è. Era ridotto una situazione, c'erano degli errori, erano stati fatti degli errori e con due anni di sacrifici, grazie anche a un finanziamento regionale, siamo riusciti a restituire alla città un'opera degna. Devo ringraziare la sovrintendenza che ci ha aiutato in questo percorso di recupero di queste stanze, devo ringraziare il dottor Pomande che ci si è dedicato ovviamente, gli uffici che hanno supportato tutte le necessità di quest'opera. Questo è un luogo che viene riconsegnato ai legittimi proprietari che sono i cittadini, dopo 17 anni. Vincenzo Bindi nel 28 alla sua morte passa questo suo grande tesoro, questi suoi figli d'arte e di cultura fondamentalmente, ai cittadini giuliesi, ai suoi concittadini. È stato un recupero lungo, io ho avuto l'onore e l'onere di seguirlo dalla ricerca fondi, praticamente partita alla fine del 2013, che ci ha permesso un finanziamento regionale nel masterplan, ma a questo finanziamento che ha permesso i lavori, ricordiamo che queste stanze erano state completamente deturpate, ovvero era stato tolto il pavimento antico, sostituito con un pavimento moderno, le pareti totalmente imbiancate. Dunque, quella che è la particolarità di questo luogo, cioè la casa-museo, una dimora storica, era stata completamente distrutta. Dunque, un lavoro molto meticoloso, un lavoro che si è concretizzato però negli ultimi due anni, nel vero senso della parola, dove l'amministrazione ha investito ulteriori risorse che hanno permesso dunque di avviare i lavori veri e propri, i restauri dell'ambiente, i restauri di gran parte delle opere, i restauri del mobilio, i restauri dei tendaggi, un nuovo, un'immagine corredata, una strategia anche comunicativa interna che vedrà la luce da qui ad ottobre, grazie a dei professionisti della comunicazione. Dunque, un lavoro di squadra, dove c'è stato anche un comitato scientifico che si è occupato dell'allestimento, dalla direttrice del Museo Ebraico di Roma, alla professoressa Carlettini di Chieti, alla soprintendente Vencarelli, alla quale va il mio più sentito ringraziamento, per far capire che un luogo della cultura come questo, prezioso per l'Abruzzo, vetrino, vetrina per l'Abruzzo e per il meridione d'Italia, grazie proprio alla collezione della scuola di Posilli, poi non solo, che regna in queste sale, ebbene, il lavoro di un museo è il lavoro di squadra, fatta di tantissimi professionisti, dai progettisti ai restauratori, ai comunicatori, chiaramente alle direzioni poi che coordinano tutti questi, appunto, professionisti del patrimonio culturale. Insomma, un luogo che viene riconsegnato e comincia un altro lavoro, il lavoro di portare questo patrimonio culturale a tutti.